uno degli alberi più belli del giardino inglese del parco cedro dell'atlante con una struttura candelabro portentosa bellissima a circondavigare l'intero ma non la circondavigliamo perché andiamo a salutare la pianta madre delle camelie vi faccio leggere nel 1782 questa pianta madre della prima progenie delle camelie nate in europa fu qui messa a dimora e noi le rendiamo maggio peraltro già con qualche fiore che dovrebbe uscire a marzo ma il tempo è davvero magnanimo a a a a a